CDP rafforza il proprio sostegno alle comunità locali con un nuovo piano di rinegoziazione mutui. 6.600 enti coinvolti e 130.000 mutui rinegoziabili per un totale di circa 24 miliardi di debito complessivo. Un'iniziativa straordinaria per sostenere gli investimenti degli enti locali in progetti di lungo periodo per far fronte all'emergenza energetica. Sei un comune, una provincia o una città metropolitana? Usa le tue credenziali per accedere al portale Enti locali e PA. Oppure registrati al portale Finanziamenti, nel quale troverai l'applicativo dedicato alle rinegoziazioni. Dal 6 al 26 aprile, tramite l'applicativo puoi Visionare le condizioni di rinegoziazione Selezionare i mutui che intendi rinegoziare Generare la proposta di rinegoziazione e gli altri documenti necessari E infine, caricare tutta la documentazione richiesta. Valuteremo la tua domanda e in pochi giorni te ne comunicheremo l'esito. Inviaci la proposta contrattuale firmata. Entro il 22 maggio ti invieremo via PEC la conferma del perfezionamento della rinegoziazione. Ma ricorda, avrai tempo fino al 5 maggio per caricare sul portale le tue delegazioni di pagamento. Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti sul territorio O rivolgiti al nostro contact center.